Fotorock, Prato del Ronco in prima fila, in seconda linea Power Alone, Pino Noir, Cosmos, Passport to Grip, Paris and Bar, Primo di Casei, Pilgrim, CR, Pura Vida del Corso. Autostart che aumenta gradualmente velocità, costante e progressiva accelerazione del mezzo meccanico per liberare i concorrenti. In errore il numero 6, Fotorock, macchina che stacca per il comando Palanca e Puma di Geripalco all'esterno, Palanca che mantiene l'iniziativa, entrando però impiegata l'errore di Palanca e così al comando. Il numero 1, Prestige Power, la squalifica per Palanca, Prestige Power in vantaggio, in seconda posizione il numero 8, Power Alone, sta intanto migliorando Peppermint che si trascina Prato del Ronco, Peppermint che punta dritta ai lati del leader Prestige Power che replica l'avversario e così dopo il quarto iniziale in 39, concorrenti sulla seconda piegata con Prestige Power al comando. I suoi bianchi rimane il numero 5, Peppermint. Poi per la terza posizione all'esterno il numero 7, Prado del Ronco, quindi ancora all'interno il numero 8 di Power Alone, si esce dalla piegata, Prestige Power ha respinto Peppermint che potrebbe averla fatto spendere, tanto la squalifica per pura vita del corso, Peppermint che ritorna aggressiva ai lati del leader, lo scavalca quando manca un giro al termine, in terza posizione il numero 7, Prado del Ronco, poi ancora l'otto di Power Alone, quindi all'esterno il 3 di Ponzio Pilato Strado, con il secondo parziale velocissimo in 29,5, Prestige Power ha ripreso l'iniziativa lasciando in fuori Peppermint, poi sta migliorando il numero 7, Prado del Ronco, che evidentemente va ad approfittare della lotta fra il duo di testa, nella sua scia scatta anche Ponzio Pilato Strado. Qualcuno semina, per ora è Prado del Ronco che raccoglie davanti a Ponzio Pilato Strado, poi migliora anche Parisienne Bar, mentre stanno retrocedendo ingoiati dal gruppo Prestige Power e Peppermint, troppo a lungo duellanti. 31,1 per la terza frazione, all'avanguardia Prado del Ronco, in seconda posizione Ponzio Pilato Strado, in terza Parisienne Bar, in quarta primo di Casei, 33 per il quarto, ingresso in addirittura con Prado del Ronco che prova l'allungo su Ponzio Pilato Strado, Ponzio Pilato Strado che attacca, poi per l'interno sta recuperando il favorito primo di Casei, Ponzio Pilato Strado che sta passando, Ponzio Pilato Strado su primo di Casei e Prado del Ronco che finiscono in lotta per il secondo posto. 31,1 il quarto conclusivo, 2,35,7 il tempo totale, la media al chilometro, di 1,15,6 per il terzo successo in carriera, il primo sul doppio chilometro per Ponzio Pilato Strado, in sediolo. Marcello Di Nicola